Il momento insieme, quarta parte di Calcio Punto Basket, l'ultima dedicata al calcio, tra poco poi spazio anche alla palla canestro, ma dobbiamo parlare di Sant'Arcangelo, un Sant'Arcangelo che dopo un buon momento, un momento di ripresa invece è caduto sul campo del Bassano, che non è proprio un campo che porta bene i colori giallo-blu, insomma spesso e volentieri sono arrivate delle sconfitte, in questo caso si è giocato di sabato, 3-1 in la finale, Reti di Proia al tredicesimo, poi momentaneo pareggio di Piccioni al trentasettesimo per il giallo-blu, poi Zonta subito al quarantesimo, quindi tre minuti dopo il gol Sant'Arcangeloese, al ventisettesimo della ripresa Minesso ha completato appunto il tris di Reti, quindi 3-1 per il Bassano. Di questo parleremo con Andrea Bondioli, difensore Sant'Arcangelo, buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Loriano Zannoni, buonasera. Buonasera a te. Buonasera ancora alla nostra linea. Buonasera di nuovo, buonasera a tutti. Allora Andrea inizio da te, per commentare questa partita, dicevo il Bassano non porta bene, lo dico anche tradizionalmente, come campo al Sant'Arcangelo in questi ultimi anni e anche in questo caso insomma non ne siete riusciti a sfatare. Purtroppo è andata così, primo tempo nettamente superiori loro, nel secondo tempo ci siamo un po' rialzati, però nel primo tempo loro sono stati superiori e hanno trovato poi un gran gol subito praticamente. Poi noi ci siamo rialzati un attimo e è il tempo di pareggiare che hanno segnato il 2-1. Ecco, forse diciamo il momento cruciale della partita è stato proprio tra quell'1-1 e subito il gol che gli ha fatto rimettere il naso avanti? Sì, probabilmente sì, anche perché è arrivato subito, non è anche il tempo di magari sistemarci un attimo, di metterci a posto che abbiamo preso gol. Ho visto tu sei stato sottotituto dell'intervallo per scelta tecnica? Scelta tecnica del mister, siamo usciti io e Damos, sono entrati Spogliaric e chi è entrato? Va bene, non importa, tanto le statistiche, il tabellino, a questo punto da due giorni, distanza interessa poco. Comunque doppio cambio per il Sant'Arcangelo per scelta però, diciamo, tattica, tecnica, insomma, quindi non c'è nessun problema insomma fisico da partita. No, 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 questo è l'importante. Assolutamente. Questa è la cosa importante. Loriano, dicevamo, stava vivendo un buon momento con Cavasini in panchina e Sant'Arcangelo, questo stop che ci può stare sul campo del Bassano, però va un pochettino a pregiudicare, se vogliamo, un po' quel bel momento, no? Fatto anche di dichiarazioni della settimana scorsa, con comunque il chiaro intento di fare un campionato diverso da quello che sta facendo fino a questo momento il Sant'Arcangelo. Sì, Francesco Pancari ci teneva giustamente a sottolineare quando è stato qua in studio l'ultima volta il fatto che anche con Beppe Angelini, più o meno da metà ottobre o giù di lì, metà novembre, la squadra ha inannellato comunque una buona striscia di risultati, però c'erano tanti pari. In questo momento il Sant'Arcangelo sta andando di salto triplo con una vittoria, sta perdendo la partita, poi vince quella dopo che obiettivamente va anche bene per il tipo di andamento che deve avere. E al di là della partita di ieri mi sembra una squadra con una certa convinzione che non può perdere dopo una partita persa. Poi ci possono essere problemi tecnici, ci possono essere problemi dati dalla forza dell'avversario, ma questa squadra in questo momento mi sembra super convinta di quello che fa. Poi sui proclami del numero uno adesso giallo-blu è difficile, è difficile resettare la testa su quello che ha detto, perché lui ha detto che proveremo a puntare alla Serie B già da quest'anno ed è complicato passare da un contesto di salvezza, speriamo di salvarci, al proviamo, che non è certo un obbligo, ci mancherebbe, ma proviamo a puntare alla Serie B. È complicato, c'è da vedere in queste settimane come assorbirà questa dichiarazione, anche se loro giustamente penseranno solo al campo, come andrà, perché le dichiarazioni ci sono state, non le hanno estorti i giornalisti, ma le ha dette il numero uno del Sant'Arcangelo. Ecco, Valentina, paradossalmente queste dichiarazioni, insomma sicuramente roboanti di questo intento di voler fare un salto, possono alla fine un pochettino anche destabilizzare un ambiente che invece proprio per tradizione è un ambiente tranquillo, abituato a pensare giorno per giorno, quindi non a fare voli pindari, ci sono a tenere i piedi ben ancorati per terra. Beh, io penso che questo fattore di novità abbia un po' scardinato le carte in tavola, certo che mi verrebbe spontaneo da asserire il fatto che tradire e fare veramente c'è di mezzo del mare. Adesso probabilmente è prematuro dare già una valutazione complessiva anche delle dichiarazioni espresse da Mestrovic, certo che il fatto di una nuova sconfitta non fa piacere e probabilmente destabilizza anche un'atmosfera positiva e anche portata da questo fattore di novità. Io penso quello che ho sempre detto del Sant'Arcangelo, sia prima che in questa nuova fase la squadra deve lavorare, anche comunque mossa da questo spirito di entusiasmo che questa nuova porta aperta ha portato con sé. Certo c'è da sottolineare il fatto che un presidente che investe sulla nostra realtà e porta anche alla squadra tre nuovi acquisti dimostra anche con i fatti, con le stene concreti che c'è comunque una progettualità importante sul vivaio. E se ricordiamo l'ultimo acquisto è l'attaccante Tomislav Stracali, sono nomi per me quasi impronunciabili, classe 96, insomma quindi vedremo poi come riuscirà a integrarsi anche nel gruppo, un gruppo che insomma sta cambiando, state un po' imparando anche il croato, in che lingua parlano? In inglese? Come comunicate? Sì in inglese, poi c'è un ragazzo spogliere, c'è il centrocampista che parla sia italiano che croato, quindi traduce praticamente. Ah bene, per fortuna così almeno. Esatto, pian piano ci stiamo, si stanno integrando nel gruppo dai. Deve se sono arrivati insomma alcuni, tipo Stracali è arrivato adesso? Sì, è arrivato venerdì e ha giocato subito sabato, oggi era il primo allenamento quindi proprio appena arrivato. Che impressione ti ha fatto? Ho visto una buona potenza, mi sembra che veda la porta quindi speriamo bene. Tre vittorie e ora due sconfitte per voi nelle ultime cinque, insomma bilancio diciamo tra virgolette quasi diciamo di parità rispetto al 3-1 insomma che era sicuramente più importante, però va anche detto che meglio tre vittorie e due sconfitte che magari due paregge, una vittoria cioè in termini di punti guardando proprio in soldoni alla fine comunque meglio alternare in un campionato da tre punti vittorie sconfitte che pareggiare e quindi vedere poco muovere la classifica. Beh, quello sicuramente anche perché noi arrivavamo da un momento molto positivo, avevamo vinto prima della sosta che era importantissimo per noi e dispiace aver perso Bassano però abbiamo, cioè noi comunque siamo andati là, ce la siamo giocata, siamo andati là per vincere, non siamo andati magari a fare le barricate, invece abbiamo proprio, siamo stati propositivi da questo punto di vista. Chiaramente le vicende del Sant'Arcangelo, Loriano senza fare voli di Pindarci ma guardando la realtà insomma di una classifica che non è ancora così tranquilla, dipendono anche da quello che potrà accadere nelle prossime ore, nei prossimi giorni a Vicenza perché ricordiamo che ci sarà il 20 marzo l'udienza ed avvio di procedimento consensuale che porterà all'asta il club. Ci sono possibili acquirenti per il momento, si fanno i nomi dell'ultimo presidente Fabio Sanfilippo che non potrà partecipare di persona ma ha dichiarato comunque l'interessamento di imprenditori alle sue spalle, poi domenica è tornato a manifestare le proprie intenzioni di acquisto anche Alessio Sundas mentre da tempo si parla anche di un possibile coinvolgimento cinese legato al Milan addirittura, quindi insomma un'altra… Quindi senza particolare, con tante liquido, va bene. Ecco, e poi invece si dà per improbabile la partecipazione da parte di Boreas che è stata beffata l'ultimo secondo nel closing da parte dell'ex AD Franchetto, quindi insomma queste sono un po' le possibili alternative, poi magari verrà fuori anche qualcos'altro, ma sostanzialmente insomma è chiaro che questo momento interessa come quello che sta succedendo a Vicenza, anche i colori giallo-gru perché lì insomma si assegna anche un'altra in quella partita, anche un'altra possibile esclusione, quindi una retrocessione in meno e quindi a quel punto insomma si potrebbe davvero viaggiare in totale tranquillità, no? Sì, ha discriminato tra un campionato tranquillo con l'obbligo quasi di provarsi davvero per i play-off perché è inevitabile che l'unico obiettivo possibile a quel punto dovrebbe essere quello, anche se non è assolutamente scontato e è facile ottenerlo e invece ritrovarsi improvvisamente, dico improvvisamente perché la sensazione di tutti adesso col passare dei giorni anche chissà, davvero potrebbe non farcela, anche perché io credo in qualunque forma arrivino gli interessamenti dell'ultimo minuto, quello che è successo a Modena ma anche quello che è successo in tantissime altre realtà anche vicini a noi, vicini insieme a noi, gli interessamenti dell'ultimo minuto mi lasciano sempre abbastanza perplesso. Ci credi poco? Ci credo poco, l'altra volta quando mi hai fatto la stessa domanda ero un po' più ottimista ma vorrei citare l'ex presidente del basketrimi di Braschi ma lui per intervista mi diceva sempre guarda Loriano non arriva nessuno qui col cavallo bianco e con una valigia piena di soldi a salvare una situazione non salvabile o meglio le società possono interessare ma se hanno centinaia di migliaia, milioni di debito si fa più complicata, qui mi sembra molto complicata, poi chissà magari arriva ad avere il cavaliere bianco però la vedo dura. Anche se nel caso del basketrimi ricordo che si parla a un certo punto di qualcuno che è che il racconto di Grossi sul viaggio di Bergamini, la valigia di Bergamini sulla fantomatica banca di Regiamina è una cosa più bella e divertente. Sono rimaste così, non dimenticheremo mai questa conferenza stampa che noi trasmettiamo tra l'altro in diretta radiofonica che si è concluso con lo stuzzicadenti spezzato dicendo che il futuro è qui. Bene, chiudiamo questo capitolo anche bello, anche simpatico del basket riminese perché non solo il calcio ma anche il basket perché stiamo parlando di Vicenza fuori dal campo ma intanto il Vicenza ti batte il teramo e te lo batte anche bene. Allora andiamo a vedere i risultati così li commentiamo insieme anche con l'ausilio della grafica e con il nostro Matteo Munaretto in regia e quelli ovviamente non siamo già alla palla canestro perché siamo un po' in ritardo come era però siamo ancora insomma ancora alla serie C ma io so è colpa di Mirko Acquarelli che è arrivato lì ma lo sta destabilizzando perché e allora lì lui già sta pensando al basket. E' avanti quei lavori. Allora vediamo appunto i risultati perché dicevamo alla fine comunque il Vicenza è andato ad essere Corsaro a vincere a Teramo 2-1. Non so, queste sono partite davvero molto strane perché ovviamente se adesso il Vicenza dovesse scomparire il Teramo ritornerebbe allo stesso punto di prima, non troverebbe danno a questa sconfitta. però è chiaro che sorprende perché il Teramo lì la partita certamente sarà giocata e il Vicenza comunque eccolo qua 2-1. Ha dimostrato comunque la squadra di non aver mollato. Sì sì ma certamente è sempre molto complicato giocare in contesti di questo tipo e molto molto sorprendente però... E nel frattempo è anche saltato dopo questa sconfitta l'allenatore del Teramo quindi ha prodotto anche delle conseguenze poco piacevoli. Eh sì, conseguenze che potrebbero alla luce, cioè se dovesse essere stromesso nel campionato di Vicenza non compromette la classifica del Teramo ma sicuramente insomma per il momento dal punto di vista diciamo tecnico per il Teramo qualcosa ha cambiato anche perché insomma fondamentalmente magari ci si aspettava di ritrovarci di fronte a una squadra magari di ragazzini o comunque di gente demotivata per non in grado di poter fare il colpo. C'è qualche altro risultato che vi ha sorpreso in questo fine settimana, in questo sabato di campionato. Guarda, non è, non credo che sia molto pronosticabile il ritorno al gioco ma semplicemente perché tutti i momenti, tutti i momenti positivi e negativi così dell'ultimo periodo vanno un po' in fumo e magari ti ritrovi con una squadra che ha lavorato meglio dell'altra semplicemente ha saputo ricaricare le pile meglio anche se ci ha tenuto a dire anche Cavasin ma veramente poi c'è stata la settimana tipo e prima poco, cioè i giocatori sono andati in pausa, abbiamo lavorato un po', non c'è stato nessun momento ampio di particolare di preparazione ma insomma però è inevitabile che passare delle settimane senza campionato poi ti ritrovi, non dico partire da zero perché la qualità delle squadre è diversa però può succedere abbastanza di tutto. Andiamo anche a vedere come si è mossa la classifica così vediamo un po' che cosa sta succedendo ovviamente nei quartieri alti, insomma vediamo sempre il Padova al comando. Quest'anno ci prendo il Padova, sì sì sì, sono convintissimo. Al nostro Danilo Chiodi quindi a curare i muscoli, quindi insomma sicuramente il preparatore atletico buono ce l'ha, visti i suoi trascorsi anche qui in Romagna. Vediamo la parte, sì giustamente il nostro mattemoniato va nella parte bassa della classifica in questo momento è quella che riguarda più da vicino ovviamente Santracangelo che è penultimo però rimangono tutte lì Andrea perché comunque siete a 19 con quel meno uno ricordiamo sempre di penalizzazione e vediamo insomma che comunque la zona playoff volendo anche ragionare in grande è sette punti sopra quindi insomma sono tre partite neanche piene. Esatto noi poi chiaramente guardiamo sempre partita per partita però è innegabile comunque che siamo tutte lì perché quelle davanti a noi hanno tutti gli stessi punti più o meno e quindi è innegabile dire che comunque il nostro obiettivo è la salvezza però non ci sono tanti punti di distacco tra noi e il playoff. Tu sei classe 97, bresciano, sei cresciuto nel settore giovenile del Brescia e poi l'anno scorso sei andato alla Maceratese e ora all'avventura Sant'Arcangelo. Come ti trovi in Romagna? Molto bene, trovo molto bene sia per i compagni che per il luogo ovviamente davvero bene, molto bene. E la prossima sarà con l'Albino Leffe quindi insomma torniamo invece più o meno dalle tue parti no? Sì giochiamo in casa però sì tra l'altro sta giocando adesso l'Albino Leffe. Sì troviamo un avversario sicuramente importante perché l'Albino Leffe sta facendo bene quest'anno tra l'altro troverò un attaccante che è l'anno scorso Macerata che era a Colombi quindi speriamo bene dai. Una partita importante per voi per cercare di subito di superare questa sconfitta e di metterla alle spalle? Esatto sì l'obiettivo principale è quello noi giochiamo per vincere quindi speriamo di salire subito. Bene allora Andrea noi ti ringraziamo in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie a voi. Grazie Loriano. Grazie a te. Ti cedo la postazione qui fianco a grande Federica che già sorride, è già tutta contenta che tra poco c'è il basket e vedrà insomma volti a lei particolarmente familiari tra l'altro in studio. Vagamente familiari. Grazie Valentina. Grazie a voi. A lunedì prossimo. A lunedì prossimo. Grazie. Prima della pubblicità andiamo nei nostri amici di Fisiokinetica ricordando la collaborazione che ormai è diventata una collaborazione importante per il Sant'Arcangelo Calcio ma visto che siamo proprio tra il calcio e il basket ricordiamo anche la collaborazione degli amici di Fisiokinetica con il Sant'Arcangelo Basket e con gli Angels Sant'Arcangelo quindi insomma sicuramente un centro di fisioterapia e di riabilitazione importante per il territorio Sant'Arcangelo e non solo ovviamente di tutta la provincia di Rimini e dintorni però in particolar modo a Sant'Arcangelo insomma calcio e basket hanno come riferimento fisikinetica. Allora le andiamo a trovare, vi do appuntamento a lunedì prossimo con calcio.basket però ricordo ancora la diretta della partita delle Rimini del Morgagni alle 14.30 partiremo alle 14.10 quindi qualche minuto prima io, Baio e Francesco Cesarini per raccontarvi Forlì e Rimini e invece calcio.basket lunedì prossimo alle 19.40 con me ma tra poco con Loriano e con il basket quindi buon proseguimento. Con la stagione fredda iniziano i dolori? Per problemi di artrosi, traumi o incidenti sportivi a Fisiokinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te Con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere Centro di riabilitazione Fisiokinetica, il primo consulto è gratuito Ci trovi a Sant'Arcangelo, Via Ugo Braschi 12, Gelsosport, Igea Marina, Domus Medica, Nova Feltria e su internet Fisiokinetica.it Grazie a tutti